Eccoci qua su Ersofine 4, ahah. Allora, stiamo facendo letteralmente il pieno di... di potere politico, così... 5,58 perché si è tolto anche quel meno... Allora... Elettromeccanica in durfi e facciamo rifare quello. Perché al livello 5 e al livello 10 guadagniamo uno slot di ricerca. Che, ovviamente, queste cose sono per tutti, anche per gli A. Però non so in che modo riesca a... a usare bene queste decisioni. Questo è quello... 5,58, bene. La Spagna nazionalista ha dichiarato guerra alla Spagna... Repubblicana. Quindi... Quanti... No... Eh... Quanti... Neutrali. Questa cosa non l'ho... Non l'ho ancora capita, però. Allora... Non è... Allora... Ricerca industriale... Leggi e governo... Politici... ... Ok... Mettiamo anche il buon... Rudolf F... F... E arriviamo a... Cosa? Però posso dichiarare... Guarda... Sì... Però... Scusate... Se... Allora... Io qua... Ci dovrebbe essere... Ehm... Low investment... Ehm... 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 Immobilizzazione limitata... Neutrale... Interventismo... Send Voluntary Extension Limit... Invece... Quest'ultimo... Eh... Sono... Gli... Advisor... Cooperativo... Interventismo... Guerra Fondaio... Giustificazione di Guerri... Ordine Sociale... Stato... Stato... Legale delle Donne... Ordine... Globale... Ideological Struggle... Allora... 150... Interventismo... Ok... Ok... Allora... Posso mandarne due... Tu... Vai via... Ci mettiamo il buon... Rommel... E... Si va... L'hanno già accettato... Eh... Allora... Allora... Facciamo la radio... Poi... Eh... Facciamo... Questo... Scusate... Quanti... Quanti... 1... 2... 3... 4... 5... 5... 5... Slot... Di ricerca... Allora... Westwall... Allora... Armi Innovation... Riarmamento... Navale... Ah... Già... Non c'ho niente in là... Ehm... Innovazioni... Eh... Delle armi... Coral... Liquiditation... Fattorie civile libere... Ehm... Quindi facciamo qua... 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 E qua... Ma... Perchè faccio queste? Per un semplice motivo... Perchè... Ehm... Con la nuova... Patch... O meglio... Con... No Step Back... Il bonus qua... Si... Ehm... Migliora anche... La costruzione... Delle infrastrutture... Quindi... Questa infrastruttura... Vi viene costruita... All'80%... Più... Facilmente... Ehm... Si va... Guerrilla Fighter... No... Allora... E si fa... Questo... Ma... Allora... 5... E 83... Ah... Genio... 250... Va... Fini... Dai... Allora... Allora... Ah... Già la vedo... Fenti... Ma... Invece... Vai qua... Così... Li... Tagliamo in due... Che è molto più comodo... Perché... Perché... Facciamo 1... 2... 3... E... Abbiamo... Tagliato questa zona... Ehm... Allora... 250... Per quello che abbiamo detto prima... Modify... O... Fighter Corps... Decisioni... Allora... Quelle... Delle campagne... Allora... Popular... Figured... La diventa 5... E... Una volta che... Ci siamo mangiati l'oro, allora Infantry Equipment, il Manpower in Frield diventa molto di più. 658, allora, e deve arrivare a 500k, e si fa in 19 giorni. Allora, perché ci stai mettendo una vita? Forza Attack, scusa, a che punto stai con... Send Voluntary, Air Voluntary, ah! O posso anche inviare il terzo. Allora, invia Voluntary, Air Voluntary, ok. Ah, 204, bene. 1 e 2. Magnifico. Perfetto. E qua si attacca, mentre costruisco nessun... Allora, facciamo questo qua dell'economia civile. Arm Innovation fatto, trattato con l'URSS. Allora, espionaggio... Uno slot extra preso. Tagliati in due, sono stati tagliati in due come una fetta di... ... Boh. Di formaggio. Mi fanno circondare? No. Perché mi attaccano. ... Allora... Industria dispersa. Be careful. Allora, preparazione... 1 e 2. ... Ah, anche i portoghefi ci sono. ... Allora, campagne. Allora, forma il dipartimento della radio, forma il dipartimento. Allora, non focus. ... ... Allora... ... ... ... ... ... Allora, linguista. Allora, uno e due. Dipartimento militare. E ci prendiamo anche... Scusa, ma quando finisce la radio? Farsi i giorni. Allora... Oh, benissimo. Allora... Benissimo. Allora, e tu? Allora, costruzione 3 finisce tra un anno e macchina computazionale finisce tra non molto tempo. Allora, political power gain. Benissimo. Amelia Earth ha circumnavigato il globo. Encryption, risorse al mercato. Allora, quanto? Manpower, no? Benissimo. Dopo il trattato con l'Urs, si va di Angelus. E ci pappiamo l'oro. Allora, dipartimento... Il Giappone ha dichiarato guerra alla Cina. Eh... Ehm... Ehm... Persona elusiva... Magnifico. Facciamo l'Angelus. Cioè, l'annessione dell'Austria. E il Giappone ha dichiarato guerra allo Shang-Chi. Magnifico L'incidente del ponte Marco Polo Guarda, ora Finiamo questi qua Allora, andiamo un pochino 75 Magnifico Allora Siamo a 19 minuti E quindi Che un po' ci ce ne andiamo Allora Dottrine Drive bombing Dipartimento navale Fatto Allora Campagne Angelus E questo qua Si abbasserà Forse Fino al minimo Allora Guardiamo un pochino Che altro c'è Freelance workhouse Fee e qualcosa Oil baron Il fronte unito Cinefe Allora Allora Localized Training center Allora Le Missioni Missioni Allora Preparare Collaboration Government Ci metto 90 giorni E Loro Fanno una brutta fine Allora Quanto stiamo Angelo Angelo Fett Di I Poes I Immobilizzazione spaziale, state intervention, localizzare il training center, magnifico. Anarchist Uppriefing, la campagna di propaganda, Angelus, magnifico. 8, magnifico, perfetto. L'Anschluss dell'Austria. Demanda, demanda i sudeti, re-assets. Ok. Allora. Induzzie belliche, affare camion, affare artiglieria, basta. Allora, dipartimento dei film, ci metterei ancora un bel po' di tempo. Allora, material designer, ok. Allora, campagne. Lavora, non parlare. E costruiamo. Perfetto. Allora, la spia inglese, così. Le campagne. Preparazione. Quello radio. Preparazione. 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 Radar. Radar decimetrico. Radar decimetrico. Preparazione. Ok. Un simpatico più 20% che può essere utile. Ok. 200. Eh. Sono ancora a livello 4. Eh. Ancora qui, quasi, eh. 30 minuti di parlare. Così. Anche se, come avete visto, io non sono bravissimo a parlare a ruota libera. Quindi, allora, quanti giorni mancano? 46. Wow. Beh, eh. Ci salutiamo. Ciao. Ciao.